08 siamo ritornati su paladins signori un gameplay però portai ma non vi fiacque molto ho offeso anche un ragazzo ma io lo facevo per scherzo no mi dispiace se il ragazzo si offeso ma io lo faccio per usare per scherzare ragazzi scusate se non vi piace neanche paladin ma a me ieri l'ho scaricato mi sono divertito con un mio amico in una maniera incredibile come non mi sono mai divertito sul rainbow anche perché il rimbo smesso di farlo quindi quindi ho un altro contenuto da portare andiamo su paladin signori luce cesta apriamo anche una cesta però ci dice che ne abbiamo due mi sa di sì vai cesta raga non mi fa la x sentite che la prevo abbiamo 6527 soldi apriamo una cesta ok vediamo se troviamo un potenziamento please wait presto skip non ci interessa o equipaggiamo alla fine equipaggiamo la vabbè apriamone un'altra ok dai dai due ceste in un video ottimo qui no niente abbiamo trovato non si può vedere quello che ho trovato recentemente per vedere se aspettate che paladin ancora sto cercando di capirlo hash hash costa un botto back forse potrei prenderlo però raga voglio prendere lui on drugs è bellissimo mio su champions e abbiamo appena sbloccato una cosa per lei che non so cosa raga devo ancora vedere cosa come fare il tutto riceve ok ho imparato come si modifica e tutto quanto ma prima o poi comunque ragazzi è una versione per chi non sapesse perché non sapesse perché appunto non conoscesse questo gioco ragazzi questo gioco è una brutta copia di overwatch edition è veramente la brutta copia di overwatch quindi wow ho trovato carina no spero non è cambiato una storia ma che caso sta di vabbè abbiamo sbloccato due abiti su fondamentalmente carina no me sblocco sto personaggio dato che ho sbloccato qualcosa di lei comunque ragazzi se sapete qualcosa fatemelo sapere con un commento perché devo sapere appunto come giocare a questo gioco abbiamo 6500 si è detto prima e direi di mettere tutte e tre le modalità e andare a vedere in che modalità giocheremo andiamo subito intanto modifico qualcosa mentre allora ragazzi noi prenderemo la carissima sky perché è bellissima ragazzi è bellissima è una sostanza in sostanza sarebbe una versione di caveira incazzata cioè è bellissima è bellissima poi io tipo la vorrei modificare in questo modo vediamo se vi piace raga guardate che figa cioè la vorrei vestire veramente in questo modo è bellissima è bellissima e guarda è figa è bellissima raga cioè guarda è figa cioè mamma mia questo vabbè questo vabbè vabbè ma ue ma ue vabbè vabbè raga eeeh sto ancora cercando la partita ci ritroveremo quando l'avrà trovata dai eccoci qui ragazzi con sky si chiama così questa operatrice diciamo eeeh niente vediamo se riusciamo a fare una buona prestazione una buona partita eeeh vediamo i nostri compagni cosa prendono allora i nostri compagni prendono un bel fernando eeeh che io un amico mio lo chiamamo gay non so perché eeeh vittor perché ci esprime ora spero che un mio iscritto non ci chiami fernando perché questa cosa starà per sentire e si sentirà male a me il nome fernando mi esprime di un gay non so perché cioè non voglio offendere le persone che si chiamano fernando però boh mi danno anche di gay non lo so e quindi raga niente eeeh eeeh ragazzi lasciate un bel like iscrivetevi al canale eeeh se volete altri episodi riparla di un farmelo per sapere eeeh ragazzi a fine video non metto più quelle scritte iscriviti al canale quella roba la metto un nuovo eeeh diciamo una nuova scena alla fine a fine video cheeeh che è una figata però devo modificarla però per il momento ragazzi ve la lascio così e poi eeeh modificherò il nome iscriviti quella roba la alla a fine video andatevela a vedere perché è bellissima eeeh qui si sta avviando la frog slide ok attiviamo questa potenzialità si spendo 4 mili si equipaggiamo dai questo mazzo da battaglia vedete il radio di fuoco è molto elevato ma eeeh il danno è molto 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 poco ma ve lo posso assicurare è molto forte questa è una freccia di avvelenamento che si ricarica ogni 8 secondi poi posso diventare invisibile e pusciare i nemici da dietro poi abbiamo la bomba rianimatrice che ci fa diventare anche allo stesso tempo invisibile oltre a rianimarci eeeh niente tra 10 secondi inizia la partita eeeh raga io farò tantissimi episodi di paladin perché prima non mi piaceva ho fatto un episodio giusto perché andava fatto ma raga è fighissimo comunque si può giocare anche in terza persona se questo non lo sapevate comunque come vedete alla fin fine è una brutta copia di overwatch però mi dispiace definirla però mi dispiace definirla brutta copia mi dispiace un po' l'ho avvelenato raga ok first blood eh manco la partita immune nooo quasi morto bastardo raga ma è l'unico problema di questo gioco che le cliente le inculano in un modo incredibile raga raga una partita dura a me un bot quindi mettetevi comodi godetevi appunto il gameplay perché sarà sarà molto lungo come episodio oh cazzo ho preso anche in testa ma che cazzo sta di avvelenato avvelenato pure si è ucciso mannaggia la miseria da sinistra che cazzo sta mi rianimo lo contezzi mi rianimo mi rianimo questa quelle granate di solito ci si fa salta in aria non è che ci si rianima però la fantasia di overwatch si di overwatch di paladin non mi di paladins non mi sorprende ma mi sorprende sempre muore a merda ah schifo ah preso dai una double kill double kill dai la bella anche una tripla grazie no ho tirato la carrella sta lui invece a me ma che stupido comunque raga sto giocare benissimo sto giocare dai dai eh vabbè l'obiettivo è straportato comunque aspetta guarda guardate si può giocare in terza persona si è finito si è vinto raga si è vinto come vedete siamo in terza persona anche ta 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 ma ne figo di gioco eh io su overwatch sinceramente non so se si possa giocare in terza eh questo non lo so probabilmente si è un free to play è totalmente scaricabile su ps4 e niente se volete giocarci con me con i miei iscritti ci gioco molto volentieri e niente andiamo ragazzi andiamo 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 a fogli il culo raga comunque stiamo a 98 per cento della mossa final quindi figa 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 parecchio come vedete siamo 2 a 4 quindi era una partita anche già iniziata allora vediamo vediamo me ne vado subito via tu ondredo occhio rilaudo rilaudo altro molto attivo ma che pensere fa eh oh oh come l'ho killata quello le kill le potete notare bene in basso la mossa final signori è panico guarda lì sto a far panico killing spree vedete i danni non ne fa moltissimi ma guardate però alla fine ne fa tanti secondo me scopo stavo rianimando mannaggia la misera quello lì non moriva raga vai riponiamo 3 2 1 pam ok raga dai 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 è bellissimo raga vi consiglio di scaricarlo ve lo consiglio è un botto bello è un botto bello non vedo l'ora di chiame androxodus come cazzo si chiama no come non è morto c'è una doppia vita che cazzo aveva ucciso perchè t'ho avvelenato stronzo mi rianimo tantissimo ma che c'è lo stai fermo te porca puttana porca merda porca merda quello non muore ci vado invisibile di soppiatto ucciso ma mamma mia raga è panico è panico è panico ma questi stanno più fermi ah ma no perchè sono concentrati a sparare per fermare il carro ecco perchè ucciso perchè l'ho avvelenato ucciso perchè no vabbè raga ah no quello non l'ho ucciso ok pensavo davvero ucciso mamma mia signori victory partiva molto victory diciamo raga come non top player io ma cazzo ho fatto la meglio provate ma ma porca miseria eh raga ho fatto un devasto incredibile guarda questa comunque questa sta sempre tre crimini perchè è un operatore veramente spettacolare ah guarda che tilmanculato pensavo di averlo ucciso io me l'aveva incollate tutte lui eh raga però è durato troppo poco questo episodio mi sembra eh dai raga ci ci ritroviamo direttamente nella seconda nella seconda parte insomma perchè dura poco insomma raga dai abbiamo preso una nuova operatrice diciamo champion diciamo una nuova campionessa direi che sia si chiama Taira ok vediamo le sue abilità questo è un lancio granato questo si spara normale si ho un mitra normale poi r1 fa nulla ottimo non fa niente vabbè l1 fa ah ok ah ok semplice semplice non ho capito cosa faccia il cazzo di cose cioè l'r1 non ho assolutamente spiegatemelo voi nei commenti perché vorrei capirlo non facciamo non sprechiamo le abilità perché ci serviranno quindi ragazzi se vedete che fu schifo è perché è la primissima volta che provo Taira quindi andiamo a comandare signori eh oddio perché vedo guarda che cazzo era quello what a shit no raga ma che cazzo era quel robo quel robo no questa non si vince te lo dico io qui ah fa troppo questo upload ho fatto astardo eh raga l'avevo detto che non si vinceva questa e avevo detto che oh invece guarda si ribalta si ribalta a situation arrivo arrivo ma che è una cacciatrice lei è una cacciatrice perfetto aspetta aspetta è una versione di ciappi al femminile ah aspetta no raga ho detto una cosa senza senso però cioè per voi è senza senso per me ha senso perché lasciamo a fare vai cosa ti va fa quel R1 oh con un colpo di shot ecco cos'è l'R1 ma porca miser oh stai calmo oh stai calmo boss ha cremato ahhh porca miseria che cazzo no che schiappa che so ma che cazzo ma raga ma la strega con un colpo mi ha shottato guardate bam un colpo raga al prossimo episodio di Panadin la figlia anche io la strega eh oh un colpo cazzo vai vai raga dobbiamo difendere cioè non dobbiamo far arrivare il carro qua eh mastardi da destra nooo vabbè dai raga 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 dai ma loro hanno preso tutti dei cosi tipo dei titan per flencarci cioè assurdo robe assurde ragazzi veramente ora vediamo la final ehm la reaction di la reaction di di questo operativo quindi oh dio sto vinto quanto togli raga quanto togli con la special ah dai umore mi assarro nooo vediamo il culo cioè gliela vuole il culo grazie ah mi stanno rianimando grazie ragazzi grazie occhio raga la occhio raga lì 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 occhio oh reloading ti ho fatto anche legge e non è morto è quello bello oh che cazzo è ahhh 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 che bella combo ce l'ho fatto raga praticamente la special della strega che sarebbe tirare una pallina una volta che questa pallina esplosa risuppia tutti nelle vicinanze e poi la specialità di questa sky è praticamente di lanciare la bomba e facci saltare tutti c'è una combo devastante raga una combo devastante hanno fatto ma perchè ogni tanto ma fare l'r1 lo pigio ma non fa niente guarda che il culo fa mamma mia leggi lì in basso guarda simex signori come kill no non l'ho preso con che fisica non l'ho preso con la chimica bello ucciso il victor lì 10 9 8 7 6 5 killing 3 3 2 eh si ma lo fermaci su questo vai così dai si messi i tuoi iscritti stanno con te è il potere degli iscritti è il potere degli iscritti Massa final e si vince raga ok è inutile dirvi ragazzi che le munizioni su questo gioco sono illimitate è inutile dirvi questa cosa anche le special sono infinite quindi è la cosa bella di questo gioco bello quindi andiamo a vedere ragazzi scusate ma loro sono andate lì sopra no? lì ma che cazzo ho fatto? ma... ah ma lei può volare ragazza c'è io premo anche doppia x ma mi sa che non fa niente cioè non fa niente eh no raga non fa niente vai raga vai raga raga vi voglio tutti con me vai 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 sia gli iscritti che mi stanno seguendo sul canale che questi boss che... ma vaffanculo ma io non c'ho mica paura astro addosso c'ho paura mamma mia no raga comunque è forte cioè voi si scherzate ma è fortissima lei eh cioè le provate ho fatto point control sto prendendo il punto di controllo raga si 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 ora appena arrivano gli tiro una granata in fascia oh da dietro raga ci bussiano da dietro oh cazzo mamma mia se me l'ho stuprata no no ha rubato comunque la kill eh si si me l'ha rubata però oh cazzo raga ma avete visto quanto l'ho stuprata qui rinocerò ok aspettate la game no raga non ci sto capendo cazzo madonna quella granata quant'è devastante di sky allora l'obiettivo l'abbiamo preso ragazzi fondamentalmente quindi potremo riuscire nell'impresa vediamo se riusciamo a portare questo carro diciamo dai dai sono 66% della final signori ah schifoso 10 oh ne ho preso un altro raga ma la tripla di sky che vedete in basso ma quanto è forte oh io non sto più chillando ve lo dico eh ok raga ah ci bussiano da dietro sti maledetti tutte 10 ragazzi il coso il personaggio di victor la cosa bella che può mirare io no cioè è quella la cosa bella di victor prova un po' a pusharli raga guarda ma mi stupro questo mamma mia no raga la final di lei è troppo devastante ma il punto sta che non vede a due oh lo sta a rianimare che bastardo era immortale praticamente vai come li abbiamo pushatli mamma mia raga che partite oggi che partite oggi con paladin signori scusate se questo video dura durerà tanto perché purtroppo il gioco è in questo modo per me può durare anche 30 40 50 60 minuti a me finchè non il gioco non si conclude io sto qua eh dammela va raga ma come mi so raga ma come mi so stuporato male prima di rinoceronte cioè l'ho stuporato malissimo ma che che dai su su alle raga capture the object to win allora ah bisogna catturare l'obiettivo senza il carro pusciamoli te merdè ma te sei sparta oh guarda sta merdè oh guarda sta merdè oh dai cazzo sai non fai parte dai team oh la granata ma guarda quello spada questo con l'affaro quanto ha rotto cojoni preso phoenix presi signori donna madonna madonna c'è star carigliate oh a merda tu stai eh ah ci fa magia questa granata ha stronto madoooo quanto cazzo so forte c'è sto gioco oh madoooo rampaggio per cinque signori e no no raga via oggi via cioè scanzatele proprio ma raga li sto uccidendo tutti e se non mi credete leggete le kill in basso lì raga victory ma oh cazzo ho dato una botta alle cuffie e non sono io il top player non ci credo non ci credo vabbè no raga sky è vero ha fatto un te passo incredibile prima guardate cioè guarda la ha fatto una kill incredibile no scusa io ho fatto una quintupla non mi metti come top player cioè non mi metti come top player quando questa qui ha fatto la final e ha fatto una kill cioè me cioè raga ma che cazzo è io ho fatto una quintupla col mitra facevo brrrr ah raga appena sono arrivato all'ultimo round all'obiettivo ho detto entriamo disi sparta mamma ho ucciso praticamente tutti tutti e raga torniamo alla home e signori finalmente momento giunto eccolo qui e il troxus sei mio e andiamo raga a prendere questo operatore you seek my service allocked androdux signori abbiamo sbloccato androdux come cazzo si chiama e raga lo proveremo nel prossimo episodio quindi andiamo e raga spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi al canale e fatemi sapere se questa nuova intro finale vi piaccia e ci vediamo al prossimo video di paladin ciao ciao